Vuoi dare un po' di swing al tuo blues? Vediamo come costruire una linea di basso walking. Sono Giacomo Lampugnani, docente di basso alla NAM di Milano. Il walking non è semplicemente una linea di basso in quarti, ma è un'onda di note che collega tutti gli accordi. Vediamo come fare. Ecco quattro regole per collegare gli accordi. Possiamo utilizzare le scale, gli arpeggi e suonarle ascendenti oppure discendenti. Il meccanismo principale è utilizzare tonica, due note della scala dell'arpeggio, ascendenti oppure discendenti, e una nota di avvicinamento all'accordo successivo, fondamentale per collegare tutti gli accordi. Vediamo insieme come costruire una linea di basso walking su un blues in fan. Per approfondire l'argomento ci vediamo in NAM. Per approfondire l'argomento ci vediamo in NAM.